Bittersweet, venerdì 5 luglio 2019 Il piccolo Booth si trova con Ashley e Dennis in un locale e apprende che la giovane cuoca non lavora più da ferite. E' molto triste per questo. L'Aslan si reca al locale dove ora lavora la chef. Vuole parlare con lei per chiederle il vero motivo delle sue dimissioni. I due hanno un dialogo molto coinvolgente. La ragazza piange ma rimane ferma sulla sua decisione. L'architetto le dice di sapere che dietro le sue scelte c'è la sorella Ashman e tutto quello che ha combinato. La ragazza piange ma rimane ferma sulla sua decisione. Grazie. 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 Grazie.